Tutto ciò è incredibile Abbiamo il più grande potere del mondo Ora saremo invincibili Governeremo questo pianeta Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sedicesimo episodio Di Pokémon Light Platinum Randomizer Nazlock Nello scorso episodio signori miei abbiamo assistito Direttamente dalla professoressa Jasmine Alla storia della creazione dell'universo Pokémon Una storia diversa da quella che conosciamo noi Quella diciamo presa per buona dalla community Pokémon E quindi vi invito se non l'avete vista A vedere almeno la parte finale dello scorso episodio Per avere un'idea più chiara di quello che andremo a fare in questo Detto ciò, nello scorso episodio abbiamo anche sventato Fra tante virgolette pieni del Team Steam Perché in realtà hanno ottenuto la Alpha Ball E stanno andando a catturare molto probabilmente Arceus Oggi siamo qui per fermarli Mi raccomando sostenetemi sempre con un bel mi piace Sostenete la serie, sostenete il canale Sempre, comunque, rispondete alla domanda del giorno Dovrei anche respirare Comunque, la squadra è rimasta totalmente invariata Siamo al completo, signori miei, Monte Drachen Ma prima, mi sono dimenticato totalmente di prendere dei rimedi Quindi adesso faccio un bel salto al market Che però mi devo ricordare che in sto gioco in teoria non è diviso Vero? Ah no, è vero, qua c'è il centro commerciale Allora, prima di andare facciamo un bel rifornimento Nel frattempo spero che questa serie vi stia comunque prendendo sempre A me sta piacendo davvero tanto questo qua Infatti non so se si è notato ma è l'episodio Il secondo episodio che registro di fila Perché voglio assolutamente scoprire come finirà questa storia E nulla, ho anche fame perché sono le 16.56 E non ho mangiato nulla quest'oggi Quindi probabilmente se sentirete tipo dei rumori strani Non è il terremoto a casa vostra Tate tranquilli, è la mia pancia Comunque, Monte Drachen Volendo c'è anche la cattura qua Vediamo se si può fare No, a quanto pare no Cercherò di velocizzare il meno possibile E spero sinceramente che ci siano poche reclute E che si arrivi direttamente Se non direttamente, abbastanza velocemente al sodo Mi piacerebbe davvero tanto non dover affrontare 303 reclute Ok, questo è un generale Subito una battaglia accesa forse Wow, sei davvero Come si traduce predictabile in italiano Sei davvero Predictabile Anche dopo aver studiato i tuoi movimenti Il team Steam non sa molto su di te Ma sappiamo che saresti arrivato qui E avresti provato a interferire con i nostri piani Non hai alcuna possibilità Catturerò Arceus E ti batterò qui E adesso Parte la sfida di Percy Raga, non come si traduce Predictabile in italiano Prevedibile Ecco, perfetto Ce l'ho fatta Sti cazzi Il livello Qua va a finire male Perish song No, le palle Muori Ok Bronzong Fermi Sia Ok Raga, sono a un livello altissimo Io ho una paura matta Qua c'è andata bene con la randomizzazione Ma è preoccupante la cosa Compirò Gli obiettivi del team Steam A tutti i costi Ok Inseguiamolo a sto punto Iniziano ad esserci delle rovine Un po' alla vetta lancia E penso che questo sia Ash Kaori E un tipo che non riesco a identificare da dietro Dovrò parlare a Kaori Guarda il creepy Le cose sono andate fuori controllo Di fianco a me ci sono Ash Che conosci già E Wesley Il cap palestra di Drake Brief City Infatti mi sembrava di una faccia nuova Penso che siamo arrivati troppo tardi Wesley e Ash Wesley ed Ash Sono stati sconfitti da zero E senza dubbio Il più forte membro del team Steam Potrebbe avere addirittura così tanto potere da catturare Arceus E governare il mondo Arceus Indebolito Dal fermare così tante battaglie Tra leggendari Ora Verrà facilmente sconfitto e catturato Proprio adesso è stato attaccato da tre dei più forti Pokémon nel mondo Di Alga Palchia e Ghiratina Penso che non abbiamo alcuna scelta Tu sei l'ultima possibilità Signori miei Potremmo addirittura non rivedere questa serie Perché potrebbe finire qua A giudicare dai livelli che abbiamo visto prima Ma signori miei Stanno attaccando Arceus Arceus soffre come non l'avevamo mai visto soffrire L'abbiamo visto dividere battaglie Mostrare il suo potere Adesso è debole Indifeso Quasi fa pena Attaccato dalle sue stesse creature Un po' troppo attaccato dalle sue stesse creature Mannaggia a lui Dai Perché hanno fatto Intanto Si sta Si sta incazzando O sta piangendo Cosa sta facendo Arceus Non lo so Potrebbe essere la nostra ultima opportunità di catturare Arceus Sono stato scelto per catturarti Sii orgoglioso Arceus Ti catturerò con l'alfa ball In questo modo sarai parte del team steam Oddio Non ci Non l'ha fatto Raga stupendo Applausi Hanno utilizzato Praticamente il tutorial Io Non sto facendo nulla raga Non sto facendo nulla Hanno utilizzato il tutorial Per questo L'hanno utilizzato un po' troppo Ok Un po' meno applausi Ma l'idea è comunque geniale Complimenti Davvero complimenti Poi vabbè Hanno un po' Fatto I nullafacenti qua però Fa nulloni Però va bene lo stesso Tutto ciò è incredibile Abbiamo Il più grande potere del mondo Ora saremo invincibili Governeremo questo pianeta Mew? Mi sa tanto di Mew sta cosa No è sempre Arceus Oddio Se l'hai preso un pochino eh Impossibile Arceus è scappato Ha più potere Di quello della sfera alfa In realtà Cioè Era una pokeball Signori miei Comunque Arceus È pronto Impossibile Il mio piano perfetto è fallito La sfera alfa è stata distrutta Tutti quanti State attenti Arceus Sta rispedendo Ghiratina Nel mondo distorto E tutti noi potremo essere risucchiati Insieme a lui Oh Gesù Se l'hanno fatto il mondo distorto Su GBA Sono Sono Non lo so Il mio sogno Per il team steam È finito Ma non po' Ma posso comunque catturare Ghiratina Aia Qua va a finire L'hanno fatto L'hanno fatto L'hanno fatto Qua C'è della Spettacolarità Signori miei Però Ma soprattutto Come l'hanno fatto Questo È diamante Perla E c'ha questi Teletrasporti qua Molto belli Oh mio dio Signori miei Arceus Ha mostrato Il suo vero potere E ci ha praticamente spedito Nel mondo distorto Ma adesso Zero Dove credi di andare Ciò che hai fatto al mondo Non passerà inosservato Ho visto che anche tu Sei stato portato nel mondo distorto Sai che ti stavo tenendo d'occhio E assomigli molto a me Non voglio combatterti Ma quando Siamo stati risucchiati Nel mondo distorto Siamo stati condannati L'unico modo per uscire da qui È catturare Ghiratina A utilizzare i suoi poteri Per scappare Trovare Ghiratina In un posto come questo È impossibile Siamo condannati A vivere qui Aspetta Questo vuol dire Che catturare Ghiratina È la cosa più importante Della mia vita Devo catturarlo ad ogni costo E questo E questo E tu sei l'unico Ostacolo Su questa via Devo sconfiggerti Ok Questa sfida qua Sarà problematica Me lo sento Quanti ne hai? 3 Blitz Livello 59 Ok Finché a Blitz Ragazzi Può andarci bene Quanto ti faccio? Ti faccio tanto male T-shot Ok Se dovesse avere un leggendario Qualcosa del genere Sarebbe un problema Torkoal John Frog Al tuo momento Ok Sfruttiamo il fatto che Torkoal non ci può Praticamente toccare Per mettere La pioggia E boostare John Frog Giù Torkoal Perfetto Questa qua potrebbe essere L'ultima battaglia Col team steam Drift Blim Ok Questo potrebbe essere Un problema E se ti addormentassi Ho fallito Surf Non so se lo butto giù là Garetto Non critare Ok Surf di nuovo Sì Ok Ce l'abbiamo fatta È surreale Ti ho sconfitto Zero Il tuo potere è incredibile Qualche giorno Un giorno Spero che possa Convincerti A A unirti A me Nel comandare Il team steam Ma adesso Devo trovare Ghiratina Caro mio Anche noi Dobbiamo trovare Ghiratina Abbiamo lo stesso Scopo Per una volta Abbiamo lo stesso Scopo Del team malvagio Ok Lo seguiamo Raga a sto punto No Ho sbagliato Soprattutto poi Raga mi piace Che il mondo distorto Si sia reso moderno E che abbiano messo Le Le ascensori Comunque Dove sono le mie Hyper potion Che ho comprato Per nulla In pratica Beh mi torneranno utili Per la palestra È vero Però Eccolo qua Io tecnicamente Ho poche poche Quindi penso Di andare Di master ball Così Diretto Livello 50 Ora Io Proverei A indebolirlo Ma anche no Mi fa malissimo Io gli tiro la master ball Lo so Raga Lo so Dovrei evitare Ma è una nazz Lo che alla fine Io i leggendari Non li catturerò E quindi Ghiratina Sei mio Ok Nonostante sia la cattura Raga Non gli do il soprannome Perché sarebbe Ingiusto Ora Ghiratini Ghiratini Ora Ghiratina Apri il portale Per il mondo normale Portaci fuori da qui Ed eccoci qua Siamo usciti Abbiamo Ghiratina nel box Non gli ho dato Un soprannome Raga Perché Cioè Obiettivamente Non l'utilizzerò Uno E due Boh Sarebbe stato un po' Demigrante Per il povero Ghiratina Kaori Eccomi qua Sono contento Che tu sia tornato Salvo dal mondo Distorto So che deve essere Un posto strano E deve essere stato difficile Ma sono così felice Che tu ne sia uscito La professoressa La professoressa Jasmine Ed io Stavamo impazzendo Cercando di capire Cercando di trovare Un modo Per salvarti Wesley Che è il compilista Di Drake Brief City Sta aspettando una battaglia Spero che tu possa Sconfiggerlo E affrontare I Super 4 E forse addirittura Me Caro Kaori Sono abbastanza convinto Che ti prenderò A sassate Quando arriverò Alla Lega Sperando di arrivarci Di conseguenza Preparati Ora signori miei Abbiamo tempo E quindi la palestra Può accompagnare solo Signori miei E' finita la storia Del Team Steam Che dire E' stata molto contorta E a tratti Prima di un nesso logico Però ha avuto Un finale Abbastanza interessante Soprattutto Per come è stato reso Con le Diciamo Con la grafica Di diamante e perle Del mondo distorto Fatto secondo me Davvero bene E ci sta Devo dire che ci sta Anche la trasposizione Della storia E nulla Pronti per la palestra Signori miei Spero di si Eccoci qua Benvenuto alla palestra Di Drakebrave City Come palestra Wesley Utilizza Pokemon di tipo Drago Consiglio Utilizza Pokemon di tipo Ghiaccio Ma tanto i Pokemon di tipo Ok Questa è la palestra Di Sabrina Raga È stata direttamente Importata da Yoto Kirlia Ok perfetto I livelli Si sono abbassati Decisamente Il che è buono Sand Slash Rock Perché ti ho fatto Rock Climb Aspetta Ice Smash Vai giù Quanto reggi Oh la madonna Ole giù Perfetto Perfetto Praticamente ragazzi Il cavo palestra È l'ultimo L'ultimo nostro Ostacolo No 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 Non hai capito Come lo butto giù io Sto coso Laga Ok perfetto Così Il cavo palestra È l'ultimo nostro Ostacolo Per la Lega E non sarà un ostacolo Del cavolo Secondo me Perché Avrà dei livelli Molto alti Tra l'altro Prima di presentarmi In via vittoria Penso di portare Tutti i Pokemon A livello 60 Perché Altrimenti Rischio A giudicare Da ciò che ho visto Io rischio Tra l'altro I livelli della Lega Pokemon Io non oso neanche Immaginarli Sul serio Ho davvero Quasi paura Cioè So che È stupidissimo Aver paura Per un gioco Pokemon Però Sì E Penso che sarà Molto difficile La Lega Che novità Tra l'altro Allora Forza Perfetto Questi qua vanno giù Che è una bellezza Del resto Finché in una palestra Di tipo Drago Hai Butterfree E Ah Questa roba qua Non l'avevo vista Dicevo Finché in una palestra Di tipo Drago Hai Butterfree E Oh Pip Non è che puoi andare Molto lontano Tra l'altro Cioè Vorrei far notare Come Bucefalo No Perish Song Le palle Io lo ritiro subito Mica che poi Questo qua C'ha un Trappo arena A caso Mi fa malissimo E Mi fa la cortesia Di morire Grazie Trappo buono Battuta Sabrina Perfetto Sabrina Lei invece Direttamente Da Vabbè La smetto È il meglio Che la smetto Ora Eh Io non ci ho pensato Allora Fatemi uscire Velocemente E vado a comprarmi Delle cure Totà Vi giuro che se si fosse Spostato E mi avesse bloccato La strada Un'altra volta Gli avrei tirato Un ceffone Sul Sul cranio Allora Però Centro C'è Centro Commerciale Quello che è Non lo so Cosa sei Dammi Delle Cure Totali Gentilmente Ok Perfetto Ne prenderei Una trentina Così mi faccio Anche la scorta Per la lega E Torniamo Nella nostra Bellissima E beniamata Palestra Eccoci qua Allora Davvero Devo rifare tutto Che vita triste Ah Ecco perché Non ci sono andato Perché non l'avevo Sbloccato Ha senso Ok Ci stiamo avvicinando Presumo No Siamo già arrivati Wow Molto corta Ok Pronti Signori miei Potrebbe essere Rischiosa Ma io sono fiducioso In bucefoli Nei miei pokemon Benvenuto alla palestra Di Drakebrave City Questa è l'ultima palestra Della lega di Zeri Quindi È la più conosciuta E la più difficile Di tutti Non è la più rinomata Scusatemi È la più difficile Di tutti Sii forte E preparati Difenderò la mia palestra Col potere dei pokemon Col potere che posseggono I miei pokemon Che possiedono I miei pokemon Ok Parte la sfida Di Wesley Cinque pokemon Oh Gesù Cristo A quale livello Fermi Switcho E mando Sia per un bel Predict Sul counter Che mi avrebbe mandato A casa Diretto Mi avrebbe mandato A casa Diretto Ok Aerodactyl John Frog Surf Take down Infamissimo Buttalo giù Eh questo qua mi sa che si cura No non si cura Non si cura Non si cura Perché non ti No Perché non ti si curato Reggi 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 Andrò giù con un giga drain Ne sono abbastanza convinto Perché Quello non Critical Ho utilizzato Il coso Però Non è con molta scelta Non gli ho fatto nulla Non gli ho fatto Proprio nulla Cut Ok perfetto Questo è andato giù Ottimo Swinab Perfetto Livello 64 Muore Ottimo E-Tran Ok Calma I jump kick Ok Devo rischiarmi un altro jump kick Scary face Non fallire eh Bravissimo Sì L'abbiamo vinta Ok Questa è stata terrificante Va detto Questa mi ha fatto paura Ora che hai sconfitto me Puoi affrontare la lega di zeri E-Ole Perfetto Otteniamo TM02 Penso di dover ottenere cascate In un qualche modo adesso Cioè In realtà Non so bene come Però un modo ci sarà Perché altrimenti io non proseguo Non posso proseguire E-Allora Come potrei ottenere cascata? Non lo so Perché io cascata Sono abbastanza convinto di non avercela Sì infatti E-Provo a parlarti un attimo Vedere se mi dici qualcosa E-E Lo so Però io ho bisogno di trovarcela a cascata Perché altrimenti E-E È un problema È un problema di fondo Magari tornando indietro Magari Non lo so Lol Waterstone Un'altra 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 Waterstone Allora Fermi Non ho Non ho più repellenti Mannaggia Mannaggia A tutti voi Tra l'altro Abbiamo tempo Quindi penso che Tu Non sei utile No Stavo pensando ragazzi Nella base del team steam No Nella base del team steam Qui Si sarà sbloccato No Non si è sbloccato Rimane chiuso Perfetto Lui rimane chiuso È akab Ok Tra l'altro Scendo dalla base del team steam Non so C'è sempre la pioggia Legit Allora Nel caso ragazzi Nel caso non dovessi trovarla Cascata E presumo che io non la trovi Dove dovrei proseguire di qua Mi informerò su come trovarla Per ora l'episodio ragazzi Finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Se così invito Come al solito A lasciare un mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se avete ancora fatto Controllato le ore Nulla Passate i social Che saranno in descrizione Rispondete alla domanda del giorno Che sarà come al solito Nella sidebar Detto ciao Noi ci becchiamo In un prossimo video